intervento dei vigili del fuoco dell'elicottero drago dei sommazzatori della polizia di stato nella mattinata di giovedì 5 marzo per cercare un uomo scomparso un 68enne era uscito di casa lasciando alla moglie un biglietto che lasciava intendere l'intenzione di farla finita il corpo senza vita dell'uomo è stato trovato nel po in zona murazzi all'altezza dei giardini ginsburg ed è stato recuperato anche se è chiaro dal biglietto che si è tolto la vita intenzionalmente sono in corso dei certamenti grazie a tutti grazie a tutti